Dopo la cerimonia di giuramento, ora l'assegnazione delle deleghe. Da oggi è operativa la nuova giunta comunale di Siculiana. Due volti nuovi, un assessore confermato e un assessore rispolverato. Dentro Udc, il nuovo partito del sindaco, il patto per il territorio e due indipendenti rispetto alla precedente squadra di governo fuori il PD. Giovani che al di là dei partiti lavoreranno e continueranno a lavorare per portare quanto più possibile a questo comune. Questo penso che rappresenta la più alta espressione della politica e dell'attività politica. Lavorare indipendentemente dai partiti e lavorare per il bene dei cittadini e del territorio. Quali sono i suoi obiettivi per dare davvero delle risposte alla comunità? Continuare sulla via della diminuzione della tassazione al fine di consentire una tassazione equa e sostenibile. Quello di andare a riprenderci questo paese che in effetti non è stato attenzionato per mancanza di fondi. Cosa ha raccomandato ai suoi nuovi assessori? Di lavorare, lavorare, lavorare. La delega di vice sindaco assieme ad una serie di competenze in materia sanitaria, sport e spettacolo è andata all'indipendente Maurizio Galletto, l'unico superstite della giunta licenziata da Mariella Bruno. Cercherò di dare la mia parte impegnata ma ancora di più rispetto a quello che avevo fatto precedentemente e collaborando con il sindaco, collaborando con i colleghi assessori. Ed è una conferma di un ritorno, quello di Salvatore Palilla. Anche lui indipendente si occuperà in particolare di bilancio. Affronteremo infatti il bilancio con lo spirito di non aumentare le tasse. Già un'attività intrapresa dall'amministrazione per non gravare sui cittadini. Infatti di concerto con l'ufficio ragioneria stiamo vedendo di trovare delle soluzioni possibili per ridurre la Tarsu o la Tares offrendo dei servizi migliori. E veniamo alle novità. Lui e Giuseppe Bassano, esponente del movimento che fa riferimento al neodeputato nazionale Riccardo Gallo, ha ricevuto tra le altre le deleghe alla cultura, legalità, politiche giovanile e comunitarie. Continuerò a svolgere il mio ruolo anche di consigliere comunale. Lo farò con l'impegno e la responsabilità con cui penso di aver lavorato in questi tre anni. Il secondo volto nuovo è quello di Salvatore Guarraggi che è anche consigliere comunale. A lui che è dello scudo crociato affidate in particolare le deleghe alla viabilità, turismo e politiche del lavoro. Finalmente partiamo con questo nuovo progetto, questa nuova giunta. Sperando che portiamo una realtà diversa portando avanti questi progetti, ci auguriamo che tutto vada bene. Ringrazio a Mariella Bruno e ai miei colleghi. Ringrazio a Mariella Bruno e ai miei colleghi. Ringrazio a Mariella Bruno e ai miei colleghi.